Volevo essere il patalon della Fiorentina, ora non mi resta che augurare ai Viola la miglior fortuna. A margine di un evento all'aeroporto di Peretola, il magnate argentino Edoardo Eurnecchian rivela che Rocco Commisso non era dunque solo interessato al club gigliato. Gli anti della valle godono perché evidentemente le alternative alla famiglia marchigiana non mancavano affatto, ma ormai poco cambia, anche perché la gente è piuttosto compatta nel sostenere l'età eco unito all'americano pronto a tornare in Italia per l'ennesima volta a fine novembre. Saltirà dunque le prossime due trasfette a Cagliari e Verona, dopo la sosta, dove la Fiorentina troverà il settore poltrone est del Bente Godi chiuso per razzismo dopo quanto accaduto a Mario Balotelli. Ci sarà tempo per pensarci, la gara contro Iurice è lontana anche se proprio assieme al Cagliari i Veneti sono la rivelazione del campionato. Quel calendario che sembrava stizzare l'occhio alla Fiorentina torna dunque a complicarsi, ma l'impressione è che siamo di fronte a un bivio. Se Montella ne uscirà indenne, forse potrà davvero puntare a lottare per l'Europa diversamente i tifosi dovranno accontentarsi di quell'anno di transizione di cui Prade ha sempre parlato. In Sardegna comunque torneranno Lirola e Pezzeia, ovviamente non Ribery che è ancora squalificato mentre Caceres sta tentando un recupero lampo, ma al momento la sua presenza resta incerta. Probabile il ritorno al 3-5-2 con il consueto ballottaggio Boateng-Vlaovic per affiancare Chiesa in avanti. Il Ganesa è in vantaggio nonostante il partito di chi vuole un centravanti puro in campo si stia sempre più ingrossando.